Le previsioni meteo in Sicilia per domenica 1 a dicembre di Globus Television. Pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da tempo asciutto, ma con cielo molto coperto o spesso coperto sui settori centrosettentrionali. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Venti da nord temperature massime non più alte di 17 gradi. Grazie a tutti.